Il modello di sviluppo europeo è irrinunciabile per quei valori di solidarietà sociale ed umana che esso esprime e che esso tutela. La nuova Europa non può essere soltanto il frutto di una mera operazione di ingegneria istituzionale. L'Unione Europea è certamente un disegno politico che risponde ad una convinta aspirazione dei popoli e delle nazioni del nostro continente. Noi abbiamo una politica europea, speriamo che si possa avere una politica estera europea, un ruolo dell'Europa nella comunità mondiale che abbia un'incidenza, un'influenza e una sua capacità effettiva e univoca di intervenire su questioni aperte. Un'Europa più unita deve saper resistere alla tentazione di guardare solo al suo tornaconto, deve allargare le sue frontiere di azione, deve saper tenere fede ai principi di solidarietà sanciti nei trattati. Dobbiamo saper rispondere alle aspettative di chi ci guarda, non solo ai cittadini europei portatori di sempre nuovi desideri, ma anche di quei popoli che difendono il più elementare dei diritti, il diritto alla vita. I popoli oggi oppressi dal sottosviluppo, dalla fame e dalla mannutrizione che volgono gli occhi all'Europa per avere maggiori certezze sul loro avvenimento. Dobbiamo sapere che nella riva sud del Mediterraneo queste popolazioni sono soggette a un tasso di incremento demografico che è ancora molto alto, sono iniziate correnti di emigratorie e immigratorie che in assenza di un accelerato processo di sviluppo che abbracci tutta la riva sud del Mediterraneo sono destinate a gonfiarsi in un modo impressionante e saranno delle tendenze inarrestabili e incontrollabili. Paesi con popolazioni giovanissime i quali naturalmente vanno verso, come avete visto, vanno verso le luci, vanno verso le luci della città. Se noi non accenderemo un maggior numero di luci in quei paesi. In realtà le grandi nazioni ricche del mondo non compiono, non sono ancora in condizione di compiere lo sforzo che viene considerato come lo sforzo necessario per ridurre queste distanze. Le distanze sono assai grandi, sono abissali ed è questa, ripeto, la questione sociale del nostro secolo. L'Italia è una nazione per definizione, una nazione immersa fino al collo nel Mediterraneo. Siamo una nazione euro-mediterranea. Purtroppo nel Mediterraneo ci sono due fenomeni con i quali bisogna fare i conti. Uno è la tendenza alla separazione, che è una tendenza culturale, che è una tendenza ideologica, la tendenza a determinare una separazione radicale tra la identità culturale e religiosa islamica e la civiltà occidentale. La tendenza molto forte, che nasce da fenomeni di frustrazione, di un bisogno di identità più marcato e più difeso, nasce dalla insufficienza dei rapporti o dai rapporti mal costruiti sulla base del colonialismo e del post-colonialismo dai paesi europei in queste nazioni. Bisogna lavorare in modo che questa tendenza, che è molto forte, e del resto abbiamo sotto gli occhi certe sue recenti esplosioni nel Nord Africa che potrebbero dilagare in tutti gli altri paesi, deve essere vinta attraverso il dialogo invece. Confronto, l'integrazione sulla base del rispetto reciproco e della conoscenza reciproca. L'altro elemento sono la catena di mine esplosive che ancora esistono. Di mine esplosive, non le sto a citare, mi riferisco solo alla questione palestinese, con un processo di pace aperto e bloccato e con una speranza che si possa arrivare a una soluzione. Certo, andiamo verso un'Europa in cui la competitività si farà assai più diretta e assai più aggressiva. e quindi noi da un lato dobbiamo temere la modernità e la forza dei sistemi produttivi delle grandi nazioni europee, anche se penso che loro debbano temere la creatività, la intraprendenza e l'intelligenza degli italiani. Tuttavia, questa Europa che tende all'unità, che tende a creare dei cittadini europei, una coscienza europea non cancella, non elimina il ruolo particolare che nel concerto europeo, nella solidarietà europea, nelle istituzioni europee, è il ruolo particolare che ogni nazione svolge. è certo che l'Italia ha rispetto a loro un handicap ed è il ritardo nella modernizzazione della pubblica amministrazione e il ritardo nella modernizzazione e nel grado di efficienza dei nostri grandi servizi. Tutto questo ci impone o ci imporrebbe di procedere a un'accelerazione delle riforme che sono necessarie per attuare questa modernizzazione. ma la prima di queste riforme non può non investire il sistema politico che è quello che poi produce le decisioni che sono necessarie. si presenta l'Europa come una sorta di paradiso terrestre, arriveremo ad un paradiso terrestre, ma l'Europa per noi, ho già avuto modo di dirlo, per noi nella migliore dell'ipotesi sarà un limbo e nella peggiore dell'ipotesi l'Europa sarà un inferno. Quindi bisogna riflettere su ciò che si sta facendo perché la cosa più ragionevole di tutte era quella di richiedere e di pretendere essendo noi un grande paese perché se l'Italia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia, non dimentichiamolo, pretendere la rinegoziazione dei parametri di maestri. dell'Europa dell'Europa Il nostro slogan è un'Europa aperta al mondo. Anche quando nessuno mi poteva sentire ho continuato a parlare. Io parlo e continuo a parlare e continuerò a parlare. e continuo a parlare. a continuo a parlare. Grazie a tutti.